Signore e signori eccoci qua in questo nuovissimo video Inter Fiorentina 4 a 2 Quarta vittoria di fila in casa, una buonissima vittoria soprattutto nel primo tempo E all'interno del video troverete tantissimi cori contro la Fiorentina e contro il Napoli Ovviamente sempre ai limiti della sportività Troverete anche la parte di Luis Figo che è entrato a far parte di Inter Forever Adesso non voglio dirvi nient'altro, godetevi tutto il video e buona visione Ciao a tutti amici nero azzurri, eccoci qua alle nostre spalle Puma della Fiorentina, oggi Inter Fiorentina Speriamo in bene perché ormai non so più cosa dire E vediamo come al solito clip dei giocatori che escono Speriamo che almeno uno si deve fermare Anche il terzo portiere, intanto i milanisti importunano i nostri video E cosa dire, poi andiamo Poi vediamo i giocatori che escono e clip e poi stadio Fede, grande Nicola, Nicola Nicola, Nicola Sputi Tello, tello Mauro, grande Zara Mauro Borca, borca, borca Non ci ferma nessuno Bernardeschi Speriamo questo qua Storia, storia Davide, Davide Ciao, ciao Ciao Davide Oh ma salutate Grande Sanchez, Sanchez Cosa? Non noi salamani E' dietro Carlos, Sanchez 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 Basta Grande Paolo 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 Grande mister Eccoci qua Appena arrivato San Siro Adesso andremo al nostro late Entreremo Saliremo Entriamo E vediamo come al solito Riscaldamento E tutte le cose Speriamo di vincere Perché la vittoria è più che utile in questo momento E' importante E' importante Molto importante Quindi adesso entriamo E speriamo Ciao ragazzi Ciao Ciao Appena entrati Sono le 20.17 Qua da una quarantina di minuti E inizierà Adesso Prima il riscaldamento Sì che ci sono solo i polcheri E dai veramente Speriamo 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 MEDO Speriamo 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 Grazie a tutti. 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 No 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 E niente Questo era il nostro video di interfiorettina Speriamo che vi sia piaciuto Se è così mettete like, commentate, condividete Passate da tutti i nostri social Che trovate in descrizione E ovviamente Forza Inter